Siamo a Monguzzo in provincia di Como in occasione della terza prova del Master Cicli Pozzi organizzata dal Rampi Club Brianza di Monguzzo e quindi da patron Alessandro Pozzi e da Davide Aiani in collaborazione con la locale protezione civile del paese. Questa è l'immagine del quartiere generale della manifestazione, il centro sportivo. Ricordo che alla via si sono presentati 154 bikers partiti per gruppi a seconda della categoria impegnati a percorrere un circuito della lunghezza di 7 km quasi interamente disegnato nei prati e nella brughiera di Monguzzo. Qualche annotazione proprio sul tracciato di gara che ricalca quello dello scorso anno solo in tratti davvero sporadici. Molto più tecnico dunque e più impegnativo e finalmente possiamo parlare di cross country, quindi di vera mountain bike. Tracciato che sostanzialmente compone un anello grazie alla combinazione dei sentieri scelti. La percezione da parte dei concorrenti è stata quella di avere più discese che salite. Meritevole di particolare attenzione anche l'ultima discesa, un vero e proprio ripido tracciato a zigzag tra gli alberi nel bosco a picco giù verso il lago. Vediamo dunque le classifiche finali di questa giornata iniziando dalla categoria junior avvinta da Carlo Gattavecchia dell'ASD Team Como Bike. Nei cadetti si impone Riccardo Panizza del Bike Team Mandello, segno la vittoria di Paolo Montini del Team MTB Lomazzo. Nei debuttanti invece la vittoria va a Stefano Radaelli. Siamo alla categoria dei Super Gentleman A dove vince Giuseppe Basso del Team Botteon. Nei Super Gentleman B Alessandro Lazzaroni dell'MTB Suisio. E nei veterani invece Silvio Olovrap del Team Spreafico. Vediamo la classifica finale che vede al primo posto il Team Spreafico. Secondo GSA Cornomarco Italia. E terzo il Team Como Bike. Prossimo appuntamento con il circuito il 18 di aprile con l'organizzazione dell'autocar a Mozzate in provincia di Como.